L'obiettivo di questo gioco è scappare dal convento, trovare il codice misterioso che si trova qui Ragazzi, sto scavando con le mie manine No, ma Trioca non deve saperlo Ragazzi, sto facendo l'NBC Ok, se la notte cala, devi scegliere chi uccidere Buonasera No, in merda! Mi penserò nell'aldilà Sì! Sì, sono scappata! Oddio, guardate, c'hai una pira lì davanti, non ti sembra un po' eccessivo? Lese che è tipo un dito medio Ti brucerò, Maria No, lo so io davvero! Perché tu fai a caso, mi prendi sempre? Tre verde, ragazzi, adesso un gioco così Quattro rosa Daisy! Brucia! Ma ero io Daisy, non era mai E rosa? Otto E rosa è uno? Il giallo è uno E rosa? È la terza volta che chiedi a rosa Allora, forse il rosa è sbagliato Maria piena di grazie al Signore è con me Brucia con le tue compagne No! Capo, raga, non trovavo il rosa!